Picciotti, bentornati su MyAnimeAccademia. Come avrete potuto notare dal titolo, oggi parliamo dell'ipotetico risveglio del frutto del diavolo di Monkey D. Luffy, il frutto Gum-Gum. Prima però, sigla. E rieccoci. Del risveglio dei frutti del diavolo ne avevamo già parlato su questi lì di non molto tempo fa, discutendo in maniera generale dei risvegli e di quello che sappiamo finora su questo oscuro power-up. Riepilogando brevemente in cosa consiste il risveglio, esso altro non è che la possibilità di accedere ad una serie di tecniche che prima non era possibile utilizzare, come abbiamo visto con Doflamingo che poteva trasformare l'ambiente circostante in fili, o Low che può ricoprire gli oggetti della tecnica Room. Quindi, se non consideriamo gli Zoan il cui risveglio abbiamo visto ad Impel Down, sto parlando delle guardie demoniache, gli altri due tipi di frutti, Paramish e Rogia, hanno a che fare con la possibilità di trasferire i propri poteri anche verso l'ambiente circostante, con più o meno pericolosità a seconda dei frutti e dei loro utilizzatori. Anche se per dovere di cronaca devo dire che ufficialmente non siamo a conoscenza di alcun frutto Rogia risvegliato, ma vista la capacità di Crocodile di trasformare oggetti materiali in sabbia, o degli ammiragli Akainu e Okiji di cambiare permanentemente il clima e il terreno di Pankazard, possiamo essere abbastanza convinti che anche loro lo abbiano ottenuto. Ma perché la volontà di discutere proprio adesso del possibile risveglio di Luffy? Perché visti gli eventi che sono intercorsi nella battaglia ad Onigashima, ciò che penso è che Cappello di Paia sfodererà come ultima arma verso Kaido proprio il risveglio del suo frutto, in quanto non posso pensare che il protagonista non sblocchi un potere del genere, mentre due suoi alleati più deboli di lui, Law e Kid, lo possiedano già. È vero, non è detto che l'ottenimento del risveglio equivalga ad una maggiore forza, d'altronde non sappiamo proprio come si possa ottenere, però mi stonerebbe comunque che Luffy non lo abbia nel breve periodo, e vi spiego perché. L'idea che mi sono fatto circa l'ottenimento del risveglio è che esso si possa sbloccare soddisfando due condizioni. La prima è quella di arrivare al limite del proprio frutto, impiegando il tutto per tutto in uno scontro. E la seconda condizione è l'essere arrivato ad un livello molto buono di potenza, in modo che il nuovo potere scaturito dal risveglio possa essere controllato, seppur a fatica, dal possessore. In questo modo non cozzerebbe con l'ottenimento del risveglio da parte di Trafalgar Law, il quale certamente non lo possedeva quando si è scontrato con Doflamingo, altrimenti lo avrebbe usato, e invece contro Big Mom lo possiede. Quindi reputo molto probabile che il chirurgo della morte lo abbia ottenuto proprio in seguito allo scontro con l'ex Shichibukai. Chi non è ancora convinto potrebbe protestare dicendo che anche Luffy ha combattuto con Doflamingo in uno scontro sofferto, e certamente Law era al più a livello di cappello di paglia, e non certamente superiore. Però penso che con Doflamingo Luffy non sia arrivato veramente allo stremo dei propri poteri, tant'è che con Katakuri vediamo per la prima volta lo Snakeman, e credo che siamo tutti concordi nel dire che il combattimento sia stato molto più sofferto rispetto a quello col Fenicottero. Quindi penso che il risveglio, se Luffy lo ha realmente sbloccato, sia stato ottenuto successivamente allo scontro con Katakuri. Ma la domanda che dobbiamo porci arrivati a questo punto del video, che è poi il fulcro di esso, è che tipo di risveglio otterrà Luffy? Ci sono due scuole di pensiero in merito a questo argomento. La prima vorrebbe che il risveglio fosse qualcosa dal potenziale enorme. Così si spiegherebbe il fatto che Wuzwu, insieme ad altri agenti governativi, scortasse il Gum Gum e spiegherebbe perché un pirata come Shanks, che difficilmente fa cadere degli incidenti diplomatici, si sia messo in mezzo per agguantarlo. Ma se siete dei veri fan del canale, dei veri picciotti, sapete già come la penso. Come dissi nel video capitolo in cui si parlava di questo argomento, che dovrebbe essere il frutto che è, passatemi il termine, semplicemente molto distruttivo? E perché non abbiamo visto da parte della marina, a parte pochi altri casi come l'Ope Ope, una tale insistenza nell'accaparrarsi i frutti più potenti? E poi, come è possibile che nessuno sappia del potere enorme di questo frutto? Quale sarebbe il motivo di tenerlo segreto? Quindi no, non reputo che il segreto del Gum Gum sia un potere distruttivo nascosto. La seconda scuola di pensiero, forse anche la più diffusa, vorrebbe che il risveglio permetta di circondare l'ambiente di gomma. Questa teoria è supportata fortemente dal fatto che prima o poi Luffy si scontrerà con Barba Nera, e quindi col Gura Gura. E utilizzando il risveglio, Luffy potrà attutire i terremoti creati da Teach. Benissimo, ma siamo sicuri che un power-up così importante venga relegato all'unica funzione di attutire i terremoti di Teach? È ovvio che sarà una delle funzionalità del risveglio. Questo sì, ma non penso che sarà il suo unico scopo. Penso che il risveglio riguarderà la possibilità di rendere di gomma l'ambiente circostante. Ma per come odaci abituati, non si limiterà alla semplice trasformazione del campo di combattimento. Piuttosto penso che Luffy, grazie alla possibilità di rendere di gomma ciò che lo circonda, quindi anche oggetti lì presenti, potrebbe sfruttarli per una possibile trasformazione, magari unendoli al suo corpo per i momentanei attacchi. Insomma, a livello estetico mi aspetto qualcosa di un po' più ricercato. Nel caso specifico della situazione in cui si trova attualmente Cappello di Paglia, e cioè il culmine del combattimento contro l'Imperatore, il quid in più che gli permetterebbe la vittoria potrebbe essere proprio questo, un risveglio che ancora non controlla pienamente, che gli permette di utilizzare gli oggetti che lo circondano per colpire più duramente. Quello che spero è che ci sia una vera e propria trasformazione estetica, per rendere onore al combattimento mozzafiato a cui abbiamo assistito finora sul tetto di Onigashima. E voi che ne pensate? A breve assisteremo al risveglio di Luffy? Oda Sensei ha qualcos'altro in mente? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima qui su MyAnime Accademia. Sayonara! Bene ragazzi, il video termina qui. Speriamo che vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like, condividete e iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video. Sayonara!